Bene, ieri ci sono stati i Game Awards, cioè in realtà questa notte ci sono stati i Game Awards, e ci sono stati molti review all'interessante, tra cui finalmente il famoso trailer di Sonic. E prima voglio dire, ok, chi è il cretino deficiente bastardo che ci ha detto, oh tranquilli, tranquilli, al giorno del ringraziamento otterrete qualcosa di interessante? Ok, non l'hanno esplicitamente detto, ma era chiaramente quello che stavano dicendo, e io sono stato lì tutta la sera ad aspettare, dicendo, tra poco arriva, tranquillo, tra poco arriva, e poi niente. Che cazzo dici che era il ringraziamento allora? Va bene, comunque, siamo pronti? Vediamo un po' sto benedetto trailer. Via! Pensi di essere Batman? Blue Justice, marchio quasi registrato? Ma sei ancora un ragazzino? Credimi, arriverà il momento in cui serviranno i tuoi poteri. Ma non scegli tu il momento, il momento scegli te. Guarda, ho i brividi. Un secondo, questa l'hai rubata a opera? È tornato! Eh, era lì nello spazio? Ma io ho dei baffi tutti nuovi. Ok, devo dirlo. Sarà magari il fatto che mi sono abituato al Eggman con i capelli e i baffi corti, ma non sono tanto fan di questa versione. Non è decisamente il vestito, no. Il vestito è fighissimo. Sono i baffi che proprio non mi convincono. Però bello! Sarà il fatto che sono ben pettinati, forse, perché nel finale del primo film funzionava bene, perché erano un po' spettinati, forse per quello che rendevano di più. No, così ben pettinati no, sembra tipo quei generaloni dei film comici. Non è stato male. Ok, ora forse sarà il fatto che l'ultima volta che ho visto Knuckles era in Sonic Boom. Ma, ok, no, faccio fatica ad accettare Knuckles che fa il duro. Però effettivamente ci sta, perché effettivamente era così che doveva essere Knuckles. Non mi pare che sia più così, sia un po' più rilassato, però ok, non li aspettavo alla dispiezzo in due. Non scosta vocione, in sostanza. Ah, ok, niente post-credit. Va bene, ok. Non sono tanto un fan dei baffi ben pettinati di Eggman. E posso effettivamente stare dietro alla vociona grossa di Knuckles, effettivamente. Poi è il trailer questo. Di solito non fanno le voci definitive nei trailer. Sì, alla fine direi che è bello. Ora, avevo il momento di aggiungere dell'altro in questo video, ma direi che ci possiamo fermare qua.